Buonasera al pubblico di Honda TV, noi torniamo in diretta con lo speciale di Honda TG dedicato alla morte di Fabrizia Di Lorenzo, uccisa dalla crudeltà umana nella tragedia di Berlino, una morte ufficializzata proprio in giornata. Noi torniamo a parlare dell'argomento con Maria Paola Giovanucci che è stata all'epoca la docente di Fabrizia. Buonasera, benvenuta ai nostri studi. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Cassini, buonasera. Buonasera. E il consigliere comunale, Andrea Ramuno, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Oggi la città si è spenta, Luminari è spenta, ma fra poco in concomitanza con questo speciale si accenderà la fiaccola della solidarietà con una fiaccolata in memoria di Fabrizia che partirà fra poco alle 21.15 da piazza Garibaldi a Sulmona, un corteo silenzioso che poi si concluderà in piazza Carlo Tresca. Prima vediamo chi era Fabrizia, questo sorriso che si è spento nel cuore di Berlino. Il servizio. La magistratura tedesca, così come ha comunicato il Ministero degli Affari Esteri della Germania, ha esaurito le verifiche necessarie e purtroppo ormai c'è la certezza che fra le vittime c'è l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. È stato il ministro Angelino Alfano poco dopo mezzogiorno a spegnere le speranze. Fabrizia non ce l'ha fatta, un'altra vittima della crudeltà umana nel cuore di Berlino. Mamma, papà, vado ai mercatini a prendere un regalo. Queste le ultime parole al telefono con i genitori della 31enne sulmonese. Poi il vuoto assoluto, un silenzio assordante. Il telefono sul luogo della tragedia, la chiamata alla farnesina della famiglia grazie ai carabinieri di Sulmona e il viaggio della speranza di Gaetano, Giovanna e Gerardo, i genitori e il fratello di Fabrizia. La ragazza è una delle tante giovani che sognavano una normalità, un ennesimo cervello in fuga. Laureata all'Università della Sapienza di Roma in mediazione linguistico-culturale, dal 2009 al 2012 ha preso una laurea specialistica in relazioni internazionali e diplomatiche a Bologna. Poi l'esperienza dell'Erasmus in Germania dove ha imparato il tedesco come l'inglese in maniera perfetta e nel 2007 un periodo di lavoro a Vienna. Dopo le lauree lavorò per sei mesi fino a settembre 2012 in Italia. Poi il trasferimento a Berlino dove si trovava bene ed aveva trovato anche un lavoro presso un'azienda di trasporti. Un'intera città in questo momento versa nel più completo sconforto in attesa di riabbracciare, si fa per dire, Fabrizia. Ancora incerti i tempi di rientro della Salma in Italia e la data dei funerali per Sulmona comincia un Natale di dolore. Paola Giovannucci ha conosciuto Fabrizia sui banchi di scuola. Che sogni, che ambizioni, che desideri maturava sin dai tempi dell'adolescenza? Il percorso scolastico di Fabrizia si inserisce all'interno di quello della sua classe. Una classe movimentata, una classe attiva, molto dinamica. Fabrizia stava dentro questa classe con ottime relazioni con i compagni, circolava veramente una grande voglia di fare. Lei di temperamento non era molto estroversa all'epoca, era silenziosa, riflessiva. Quello che era chiaro è che non veniva a scuola perché mandata. L'aveva scelta e quindi io l'ho conosciuta al triennio, quindi dopo due anni già di esperienze. Però era convinta che la scuola servisse e quindi la sua dimensione era una dimensione di attenzione, di cura. Poi via via ha partecipato anche a tutte le attività che la scuola all'epoca metteva in atto, di gestione, di momenti in cui i ragazzi erano veramente protagonisti, quindi si davano da fare. Lei suonava la chitarra e quindi anche questo faceva parte del suo essere presente a scuola. Ecco, dal ricordo tracciato poc'anzi si è capito che era una ragazza che brillava negli studi. Quali discipline magari prediligeva più di me? Allora, diciamo che sono passate diversi anni, nel 1985, credo 1986. Era un momento in cui il liceo linguistico stava crescendo. era la sperimentazione, Brock era una sperimentazione pesante, aveva tante ore. Diciamo che le attività erano tantissimi scritti, quindi anche proprio le lingue, l'esercizio delle lingue tedesco, inglese, francese, portava via molto impegno. Gli iscritti erano anche numerosi. Però ecco, insomma, era un ensemble, diremmo, molto propositivo nella classe. Le speranze, sindaco, sono svanite oggi, in questa tristissima giornata. Un giorno da cancellare per Sulmona, il 22 dicembre. Siamo a ridosso del Natale, un Natale spento. Sotto il suo ordine le luminarie si sono spente, in segno di rispetto per il profondo dolore che in queste ore vivono i familiari che sono a Berlino e hanno atteso per circa 24 ore, ma anche qualcosa di più, l'esito della comparazione del DNA, poi oggi la tristissima notizia. Ecco, non so se ha avuto modo di mettersi in contatto con i familiari, anche per conoscere quali sono i tempi del rientro della Salma in Italia e poi della celebrazione dei funerali. Sì, io ho cercato, sin dal primo momento in cui ci è giunta la notizia di questo terribile incidente e dello stato di dispersa della nostra Fabrizia, di prendere contatti con la famiglia per poter immediatamente mettermi a disposizione qualora ce ne fosse stato bisogno. Ho contattato la zia immacolata già subito dopo i primi momenti e sono rimasta in contatto con loro in tutto questo tempo, in questi giorni. Ho avuto modo di parlare con la signora Giovanna in più di un'occasione e la signora nella sua disperazione ha sempre mostrato un atteggiamento composto, seppur un grande dolore come quello che ci può essere per una mamma che saluta una figlia verso un futuro di lavoro, di impegno, anche di gratificazione, di raggiungimento, anche di aspirazioni lavorative in un paese estero, straniero che l'aveva accolta, che l'aveva accolta bene. Io oggi anche, dopo la notizia, ho raggiunto la famiglia con la signora Giovanna per esprimerle l'affetto, il cordoglio mio dell'amministrazione, ma di tutta la città, perché questo dolore, questo cordoglio, è un cordoglio corale, palpabile la commozione da parte di tutta la città, la fiaccolata che si è animata spontaneamente nel pomeriggio e che si svolgerà tra poco, ne è la testimonianza. Lei ha già avuto modo di annunciare poco fa a Onda Tg che il giorno dei funerali di Fabrizia, il rientro della sua salma in Italia, ma anche qui a Sulmona, sarà lutto cittadino. Beh sì, ci sembra doveroso tributare a questa giovane concittadina una vita spezzata, in maniera così tragica, una ragazza che si è fatta onore rappresentando l'emblema di quelli che sono i migliori valori che una gioventù può esprimere, merita il tributo maggiore. Quindi il lutto cittadino ci sembra il minimo che le si possa tributare nel giorno del suo funerale, anche per consentire a chiunque voglia partecipare ai funerali di poterlo fare. Certo, l'abbiamo detto Sindaco, questo è un Natale sottotono per la città di Sulmona, un Natale molto diverso degli altri Natali per quello che è successo. È un clima, forse, non so se lei lo percepisce, ma di assordante silenzio per le strade, per i quartieri cittadini. Sì, purtroppo quest'anno è un Natale veramente sottotono, il sentimento di allegria, di festa che in genere in questi giorni c'è nelle vie, nelle strade e che questa città sta faticosamente conquistando, quindi la vitalità si è spenta immediatamente. Già nei giorni passati l'angoscia per la sorte di Fabrizia aveva già colpito duramente e quindi già c'erano dei segnali importanti di contrazione di quelli che sono i sentimenti tipici di questo periodo. Oggi si è bloccato tutto, io ho ricevuto testimonianze da parte di cittadini, da parte anche di colleghi sindaci da tutto Abruzzo, amici, anche da fuori regione. Ecco, è un evento che ha bloccato Sulmona, ma che ha posto Sulmona al centro di un momento di commozione che va oltre le nostre mura. Però, ecco, Sulmona oggi si è fermata. Sì, una notizia indubbiamente che scuote, commuove Sulmona, una città, come diceva poco anzi il sindaco, completamente paralizzato. Io non approfitto perché proprio qualche minuto fa è giunto il messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, che spende anche lui qualche parola per ricordare Fabrizia. Questa ragazza 31enne di Sulmona è una ragazza che è il simbolo di una generazione italiana che si è data da fare, avendo successo nello studio, nel lavoro, una generazione di cui noi tutti siamo orgogliosi, lo dice proprio il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, parlando di Fabrizia Di Lorenzo, confermata tra le vittime dell'attentato di Berlino. Io approfitto delle parole di Gentiloni per ora toccare un altro argomento con il Consigliere Ramonno, che è l'argomento del dramma che vivono i giovani, da cui la presenza è di un Consigliere Giovani, nello speciale di questa sera. Il dramma dei giovani che sono costretti ad uscire dal territorio, quindi a fare le valigie non solo per trovare un lavoro, perché magari poi in Italia un lavoro si trova, però un lavoro che soddisfi le proprie inclinazioni, le proprie esigenze, che è un lavoro che permetta anche di realizzare giovani i sogni nel cassetto. Non so se questo problema è stato attenzionato nella sua importanza. Certo, si tratta di un problema importantissimo per quest'Italia e che colpisce in particolare di Sulmona, che poi risente maggiormente del problema della mancanza occupazionale, della disoccupazione giovanile. Sulmona poi accusa maggiormente il colpo perché la città non offre università, quindi già dopo la scuola superiore i ragazzi della nostra età vanno via da Sulmona. Fabrizia è una di quelle che ha conseguito due lauree, si è spostata da Sulmona per studiare e poi ha deciso di rimanere fuori, ma come tante migliaia di sulmonesi, perché la nostra città, è inutile negarlo, è terra di emigrazione, persone che decidono di partire per cercare magari fortuna migliore altrove o soltanto anche, ci sono diverse persone che partono anche per volontà proprio di esplorare il mondo e di conoscere nuove cose. È importante che noi siamo vicini a queste persone, io stesso sono uno studente universitario, ho la fortuna di stare qui in Abruzzo, quindi diciamo che sono a pochi chilometri da Sulmona, ma il nostro obiettivo deve essere stare vicino a queste persone che amano la nostra città, sono persone che l'hanno vissuta la nostra città, sono andate qui e l'amano, proprio sotto Natale la nostra città si riempie di queste persone che sono fuori e Fabrizia è una di quelle che sarebbe tornata proprio in questi giorni. L'amministrazione, la città tutta deve stare vicino alle persone che vogliono bene la città e che magari hanno anche intenzione di tornare. Sì che poi il rimorso più grande è questo, perché lei proprio c'è stata questa telefonata, la mamma è al padre lunedì prima della tragedia, mamma va, vado a comprare un regalo ai mercatini di Natale, poi il vuoto, il silenzio assoluto. Ma tornando su questa piaga sociale che è quella dell'evasione giovanile oltre la mancanza del lavoro, vediamo che cosa si dice in piazza con la nostra brevissima raccolta di opinioni e poi torniamo in studio. La tragedia di Fabrizia riaccende riflettori sul lavoro che non c'è, sui tanti giovani costretti a fare le valigie per esaudire i sonni nel cassetto e soddisfare le proprie ambizioni. Fra il silenzio che regna oggi per le strade, le piazze sul Monesi, c'è una piccola voce che ripone l'accento sul dramma giovanile della mancanza di lavoro. È il momento che le istituzioni si pongano delle domande, basta far finta di niente, non è possibile che un giovane per sfruttare le sue potenzialità debba per forza migrare, incalzano in cori sul Monesi. Sì, ogni giorno combattiamo tra assunzioni che ci sono, promesse di lavoro non mantenute e lavori non ben ricompensati. Ci sono giovani che purtroppo partono e lasciano questo territorio che sta diventando sempre più un territorio per vecchi e giovani che restano qui e cercano di valorizzare questo territorio, di lottare per questo territorio e di far sì che non si dica che l'Italia e soprattutto l'Abruzzo, soprattutto la Valle Peligna, sia un paese per vecchi, sia un territorio per vecchi, ma è una riscoperta sempre più positiva per i giovani. Assolutamente sì, è triste pensare che con una laurea, un diploma o un qualsiasi titolo bisogna andare all'estero per avere un lavoro. Una tragedia che riaccende... E' un dramma questo per noi giovani, soprattutto perché non è il lavoro in sé che manca, perché volendo in Italia qualche lavoro si può trovare. Il problema è che non riusciamo a raggiungere la realizzazione nelle nostre ambizioni, le ambizioni ovviamente nel campo in cui abbiamo intenzione di lavorare, perché non c'è spazio per noi. Ormai radicato già da parecchi anni che la questione purtroppo stenta a ripartire e a migliorare. La situazione attuale è che sostanzialmente il giovane non è incentivato, è quasi obbligato per perseguire una professione per la quale ha fatto tanti sacrifici di studio, magari dettati da sforzi economici, soprattutto anche per le famiglie che giustamente li mantengono, trovarsi costretti a lasciare il proprio paese, è diventata quasi una realtà scontata. C'è chi lo fa e poi magari, sentiamo in questi giorni, succedono cose che non dovrebbero succedere. Questo è il risvolto sociale di quanto accaduto, ancora con il consigliere Ramunno sui social e il luogo dove corre il dolore. Corre il dolore per quanto è accaduto, anche i tanti messaggi che sono arrivati per ricordare Fabrizia. Però, sempre con il consigliere Ramunno, poi passiamo la parola alla docente. C'è stata questa proposta di istituire un'anagrafe per i sulmonesi fuori sede. Ecco, come nasce, credo, anche da questo, ma soprattutto che cosa significa, come sarà attuata? Allora, nemmeno a farla apposta, io ho lanciato proprio questa proposta qualche giorno, qualche ora prima dei dolorosi fatti di Berlino, che poi in realtà si è sparsa la notizia di queste vittime coinvolte, ma all'inizio non si era a conoscenza della nazionalità e della provenienza delle vittime. Perché è importante sapere quante persone sono fuori da Sulmona? È importante perché, come dicevamo prima, la piaga dell'evasione giovanile da questo territorio è molto alta e possiamo dire che fuori da Sulmona c'è un'altra Sulmona che lavora, studia, ci sono anche delle eccellenze, spesso ne parliamo, ne parlate nei DG, quindi eccellenze che sono costrette a lavorare fuori da Sulmona perché ci sono dei territori che offrono altro e l'anagrafe o registro elettronico, come vogliamo chiamarlo, serve proprio a questo, capire dove sono le persone, chi sono e magari stabilire anche un contatto con loro, perché magari potrebbero essere una risorsa per questo territorio, perché si tratta di persone che sono specializzate in diversi campi, che possono dare il loro contributo a questo territorio che ne ha bisogno, ma soprattutto far sentire a queste persone che la loro casa è qui e li aspetta, quindi bisogna stabilire un contatto, farli sentire amati e poi come dicevo prima sapere di cosa si occupano, quindi un'anagrafe che poi contenga tutti i dati di queste persone e avere magari proprio, una professore del genere la fece anche il consigliere Gianna Morelli con cui mi sono confrontato in questi giorni, lui addirittura pensò ad un assessorato per i residenti fuori città, con magari la possibilità di dare anche dei servizi a queste persone che poi ne hanno bisogno, quindi questa è un'idea lanciata e su cui sicuramente avremo modo di confrontarci e di sperimentarla con tutta l'amministrazione. Professoressa, lei voleva parlare perché credo che non ha perso i contatti con i suoi studenti e poi li ha ritrovati dove? In Italia? No, volevo precisare una cosa, allora la classe di Fabrizia ma anche proprio tutto quel segmento di scuola, sperimentazione, l'idea nostra era che il linguistico fosse veramente una sorta di ponte con l'Europa che si andava collocando, quindi il sogno di non essere più cittadino di questa città ma cittadino di un'Europa, per non dire cittadino del mondo, cioè l'idea in cui questi ragazzi sono cresciuti era proprio l'idea dell'apertura verso l'Europa. Il problema sostanziale credo che debba essere comunque riferita alla situazione di Fabrizia che si è trovata in questa dinamica e che noi siamo in guerra non ce la dimentichiamo, quella che stiamo vivendo oggi è una situazione tremenda per cui ci si chiede dove potrebbe essere la nuova tragedia, perché non dobbiamo dimenticarci che Fabrizia è vero che stava fuori dalla sua Sulmona ed è anche vero che i nostri ragazzi forse amano Sulmona, ci metto anche i miei figli che amano la loro terra perché qui sono cresciuti, qui sono vissuti però è anche vero che questa Europa non ci deve far paura, Berlino è oggettivamente una delle capitali europee vivibili, è a misura d'uomo, è una città che ha fatto, è un luogo che ha fatto dei passi da gigante rispetto alla sua storia pregressa, quindi è un luogo dove i ragazzi aspirano ad andare e i ragazzi di Sulmona che vivono a Berlino, ce ne sono tanti, come ce ne sono tanti i nostri alunni che stanno a Bruxelles, che stanno a Londra, voglio dire questi ragazzi sono cresciuti, sono sviluppati anche con un'ottica che va oltre lo spazio di Sulmona. Ora la tragedia qual è? Quando tu senti la notizia in televisione, Berlino è lontana da qui, per cui chi ci sarà? Pensi ovviamente a quelle vite perse, il dramma è nel momento in cui c'è questo riconoscimento che tra queste vite c'è anche la tua alunna, quella con cui sei vissuta per tre anni in seguito, che vedevi quasi tutti i giorni e capisci che una parte di te non ci sta più, perché con lei se ne va anche una parte. Se ne va un pezzo di storia, un pezzo della tua storia, di quella che è la tua vita. Che poi quando si deve fare la comparazione del DNA si aspetta un risultato, la speranza è sempre l'ultima a morire. Però era una speranza paurosa che faceva paura ugualmente, che cosa potrebbe accadere se non fosse, dove potrebbe essere? C'è questa scheggia impazzita, voglio dire, l'identit di questa persona ci fa un po' riflettere anche di una certa superficialità, di come questa persona è stata tenuta per quattro anni in un carcere, però poi uscita può andare tranquillamente in giro e innescare un meccanismo in un qualunque posto, esso si trova. Quindi è una dimensione veramente globalmente, che è veramente assurda e dolorosa. Sul fatto che i giovani amano l'Europa, forse anche il caso di Fabrizia, tant'è che il Presidente del Senato, Grasso, l'ha ricordata oggi proprio con queste parole, una straordinaria cittadina europea. Ma al di là di questo, vi ho parlato delle sue capacità, delle doti, però già dalle sue foto si vede che era una ragazza con un sorriso splendente. Esatto, era una persona, infatti abbiamo visto con gli scambi culturali, loro hanno fatto uno scambio culturale con la Francia, i francesi sono venuti qui da noi, quindi hanno vissuto momenti di fraternità, di stare insieme con altre culture, con altri adolescenti, dove non c'era questa grande differenza, io sono italiana e tu sei francese. Quindi era veramente un bel momento, anche proprio di serenità globale, sono anni, un momento bello della storia. Allora Sindaco, al di là di chi ama o non ama l'Europa, però forse è il caso di tornare su questo argomento, magari dei giovani che comunque sono costretti ad ambire altri posti e non la patria. Ecco, da questo punto di vista quanto fa male per un Sindaco pensare che poi i concittadini giovani devono a volte per forza di cose lasciare sul Mona? sul Mona chiaramente è una città oggi che ha un tessuto economico sofferente che sta ridefinendo una propria traiettoria, una propria identità anche di sviluppo. È chiaro che i giovani, soprattutto giovani come Fabrizia, come ricordava l'insegnante, crescono oggi in una dimensione anche delle aspirazioni, giuste aspirazioni di crescita, abbiano poi la necessità di muoversi al di fuori di questo territorio. Questo territorio, come dicevo, deve ritrovare una traiettoria, si deve fare in maniera che sul Mona venga valorizzata come città europea, appunto perché solo così riusciamo a dare quelle risposte a quei giovani che oggi sono cittadini europei, hanno diritto anche in Abruzzo, anche in un'area interna, di poter soddisfare le proprie aspirazioni. Quindi Berlino è una meta che può essere una meta di studio, che può essere una meta di esperienze, può essere una meta anche di vita, però può essere anche una meta che poi ti riporta a Sul Mona, ti riporta in Abruzzo per proiettare Sul Mona e l'Abruzzo in Europa stessa. Questa potrebbe essere la grande scommessa perché oggi i nostri giovani, anche a Sul Mona, possano esprimersi e possano riuscire a realizzare le loro aspirazioni in maniera nuova, in maniera moderna e innovativa. Noi siamo abituati a vedere, a pensare anche a modalità classiche, canoniche di collocamento lavorativo. I giovani ci insegnano che il futuro è fatto anche di nuove professioni, di nuovi spunti, di una nuova economia. Dovremmo essere bravi a cogliere queste istanze, queste aspirazioni e a creare quelle condizioni affinché su tanti campi si possa sostenere una nuova economia. Per un territorio come questo che naturalmente non può pensare più solo alle fabbriche, non può pensare, ma deve pensare ad altro. Quindi trasformare Sul Mona è una città ambita, mi sembra un po' questo il messaggio. Sempre sbirciando sui social, la figura di Fabrizia viene ricordata oggi nelle sue più sbariate sfaccettature. C'è chi comincia già da adesso a pensare come suggellare questa ragazza con un segno indelebile, con un ricordo perenne proprio nella città di Sul Mona, magari con la dedicazione di un luogo particolare. Si può andare su questa direzione sindaco? Capisco che è prematuro perché c'è ancora l'iter del rientro della salma da completare. Se penso a Fabrizia, per quello che sta rappresentando, per il suo sorriso, per la sua storia, immagino un luogo che la possa ricordare, un luogo gioioso, vitale, vivace. E quindi se ci sarà la possibilità di tributarle un ricordo, io penserei a qualcosa del genere. Sicuramente c'è la volontà nostra, mia in particolare, di onorare questa ragazza. So che adesso è il momento del dolore, questo è il momento del pianto, della riservatezza, così come la famiglia ha chiesto, una famiglia composta che oggi non ama il clamore, e quindi nel rispetto di questa istanza, oggi voglio pensare a Fabrizia, a questo dolore. Ma credo che per quello che Fabrizia rappresenta, Sulmona non possa che essere onorata di ricordarla nelle forme che poi vedremo. Ecco, si è parlato per chiudere del dolore di una madre e di un padre, ma se ne parla poco perché non bisogna trovarsi, poi in queste situazioni delicatissime, del dolore di un sindaco, del dolore di una docente. Consiglieremo uno, qual è il dolore di un giovane? Cioè vedere poi un coetaneo strappato, la vita così, in una frazione di secondi, mentre era pronta Fabrizia per tornare a casa per Natale, che stava comprando un regalo. Ma il dolore di un giovane sta nel fatto che si dice sempre che questo paese non può darci un futuro. Questa mattina io spulciando sul profilo Twitter di Fabrizia, c'è proprio l'ultima cosa che le ha postato, ha scritto l'Italia a un paese di dinosauri, citando un'ospezione del film La meglio gioventù. Io credo che Fabrizia abbia rappresentato il sentimento che in quel momento provava guardando questo paese dal di fuori. E quindi come giovane non possiamo che essere del tutto tristi di questa cosa, cioè di non poterci creare un futuro o di riuscirci con tutte le difficoltà, come Fabrizia stessa aveva dimostrato. E io credo che, poi specialmente da amministratore, questo lo dico, anche se è la mia esperienza, la cosa si sente ancora di più. È doloroso stare dall'altra parte e sentirsi in difficoltà perché spetta la classe dirigente cambiare questo paese. E quindi dico, proprio oggi ne parlavo, che il ricordo dei giovani deve essere quello di cambiare le cose, perché soltanto cambiando il paese di dinosauri di cui proprio Fabrizia parlava, possiamo dare un futuro a noi stessi e a chi verrà dopo di noi, perché soltanto cambiando le cose si può rendere questo paese migliore, un paese per giovani e non un paese per vecchi. Va bene, allora noi ci abbiamo alla conclusione, anche per raggiungere la fiaccolata che è in corso, in memoria di Fabrizia, questo caldo abbraccio di luce che dà sul Mona, quella luce che viene dal cuore perché giustamente la luce fisica, la luce del Natale si è spenta. Lasciamo l'ultima parola al sindaco Anna Maria Casini. Ecco, questa iniziativa spontanea conferma che dopo il grandissimo dolore, di fronte al grandissimo dolore, Sulmona ha saputo comunque rispondere con la solidarietà, con il rispetto. Sì, questa è una cosa veramente molto bella perché è il tributo migliore che si possa fare a Fabrizia e alla famiglia. In questi casi purtroppo la perdita prevale su tutto, però una carezza, una forma di affetto, un abbraccio possono allenire leggermente questo dolore. Io spero che la famiglia da Berlino possa essere raggiunta da questo abbraccio, da questa luce, da questa fiaccolata che testimonia veramente quando un'intera città si sia raccolta, unita alla grande tragedia che ha colpito la famiglia di Lorenzo perché questo sta dimostrando che è un dolore veramente di un'intera città. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, Maria Paola Giovannucci, la docente, la professoressa Di Fabrizia che ha tracciato il suo ricordo, grazie, buonasera, grazie anche al sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini e al consigliere comunale Andrea Ramunno. Noi ovviamente torneremo a parlare nelle prossime edizioni di Onda DG di questa tristissima vicenda seguendo gli sviluppi del caso, soprattutto i tempi del rientro di Fabrizia in Italia poi la data dei funerali per questa sera, noi ci fermiamo qui. A tutti grazie per l'attenzione e una buona serata su Onda TV. Grazie per l'attenzione e una buona serata su Onda TV.